Ciao Gossip News Infatti ho visto che il cast è totalmente al femminile, come ti sei trovato? Bene, bene perché sono delle persone stupende, delle professioniste incredibili, vanno a cento all'ora io spero di essere stato dietro a queste protagoniste pazzesche Ma il tuo personaggio qual è? Il personaggio è quello di Giacomo ed è un ragazzo, un avvocato, il tipico ragazzo della porta accanto che insomma ha a che fare con una ragazza stupenda che è Michele Ramazzotti Io ho visto però nel trailer che tu la saluti dicendo proprio un ciao e lei ci rimane un po' male In realtà ci sono rimasto parecchio male io in alcune cose, per cui vedrete questa amicizia da pianerottolo come si evolve Grazie a tutti! Grazie a tutti!